Eccoci di nuovo insieme, parliamo di tennis perché la Coppa Davis arriva in Emilia Romagna, iniziano appunto le partite da oggi a Bologna, allora ne parliamo con il delegato provinciale della FIT Fabio Guerrieri che appunto si intende di tennis più di noi e quindi chiediamo a lui un aiuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Guerrieri intanto le chiedo, anche chi non segue il tennis sa che la Coppa Davis è un appuntamento importantissimo, perché e che cos'è la Coppa Davis? Beh, è un appuntamento molto importante perché è una Coppa che ha una tradizione centenaria, quindi negli anni abbiamo visto tutte queste grandi sfide fra le varie squadre, soprattutto diciamo quando abbiamo vinto l'Italia di Panatta nel 76, quando abbiamo vinto quella famosa Coppa in Cile contro anche le situazioni politiche che c'era, quindi è stata una vittoria importantissima e una vittoria storica perché al solito l'Italia è stata l'unica volta che ha vinto la Coppa Davis, quindi è stato molto importante adesso riportare questi quarti di finale in Italia, con la possibilità di andare alle finali e finalmente con una squadra, Sinner Berrettini, all'altezza della situazione, quindi che si dà la possibilità di eventualmente partecipare a una finale, esatto, con possibilità anche di vittoria. Difficile perché ad esempio possiamo pensare che se la Spagna schiera, Nadal e Alcarci il nuovo fenomeno diventa difficile, però abbiamo una squadra molto competitiva e è stata importantissima, infatti quando io sono andato a Bologna alla presentazione della Coppa Davis, vedere questa insalatiera che io ho sempre visto in televisione fin da bambino. L'insalatiera è la Coppa? La Coppa, si chiama l'insalatiera la Coppa che si vince, è stata un'esperienza molto emozionante, poi ho fatto la foto con, c'era Nicola Pietrangi che è il tennista storico italiano e ancora a più di 80 anni rappresenta la figura dell'Italia più importante nel mondo del tennis. Quindi ci ha già anticipato, ma voglio tornare anche su questo aspetto, intanto della squadra italiana, chi sono appunto oltre a Berrettini e a Sinner che abbiamo imparato a conoscere, come è formata poi la squadra italiana? Poi nella squadra ci sono anche Musetti che è un ragazzo molto talentuoso e giovane e soprattutto il doppio storico Bolelli-Fonini, uno dei pochi doppi italiani che ha vinto un grande slam, ha vinto l'Open d'Australia. Infatti io penso che la partita decisiva potrebbe essere quella di domani con la Croazia. Che è il debutto dell'Italia peraltro. L'Italia domani 14 debutta con la Croazia, poi affronterà l'Argentina e la Svezia. Ma come funziona? Cioè sono in doppio i singoli tennisti? Sono quattro squadre nel girone, sono due incontri di singolare più un doppio, quindi bisogna vincere 2 a 1, 3 a 0 per vincere la partita. Quindi per l'Italia domani la sfida sarà soprattutto vincere i singoli perché i croati hanno un doppio fortissimo, numero 1-2 al mondo. Quindi se noi vinciamo i due singoli e perdiamo il doppio però abbiamo vinto 2 a 1 perché passa una sola squadra alle finali. Adesso ci sono quattro gironi in quattro nazioni diverse, una è l'Italia, l'altra gioca in Spagna. Quindi quello si gioca a Bologna è il girone e si gioca in Italia. Sì, in Italia. Quindi è un appuntamento importante della nostra regione. È stata bravissima la regione a ottenere questo appuntamento perché è una cosa bellissima da vedere. Ormai l'Italia, dobbiamo dire però, è al vertice mondiale perché oltre alla Coppa Davis poi a novembre si giocherà a Torino il Master che riunisce i primi otto giocatori al mondo. Come già lo scorso anno. Per sei anni si giocherà a Torino. Prima si giocava a Londra e prima ancora a New York. E perché ora a Torino? Perché la federazione italiana è riuscita a garantire un visibilità, sponsor, soldi, anche perché il tennis ha avuto negli ultimi 15 anni uno sviluppo pazzesco. Siamo arrivati a essere la seconda federazione d'Italia per tesserati. Solo il calcio ha più tesserati rispetto... E questo secondo lei perché? Ma perché è cambiata molto la politica della federazione. Ha incentivato il gioco per i ragazzi, ha creato Super Tennis, la TV solo di tennis. Una TV che è stata subito criticata per i costi, ma poi ha spinto tutte le altre federazioni, ultima anche l'automobilismo, a crearsi una TV sport. Ma è una TV in chiaro che si vede in chiaro. Sì, una TV in chiaro, legata solo al mondo del tennis. Siamo fatta la TV anche solo all'auto che l'ha fatta l'ACI Sport. Quindi tutti stanno seguendo questa strada qua. Ha creato visibilità al movimento. Fanno vedere anche i circoli. Sostante poco tempo fa anche il circolo al Cerea, a Canari qua da noi. Quindi fanno vedere... Funziona come metodo di promozione. Funziona come metodo e soprattutto hanno creato, formato i maestri in maniera diversa. Abbiamo creato finalmente delle accademie, no? Cosa che diciamo negli anni 90 in Spagna avevamo 100 accademie, noi zero. E adesso invece stiamo uniformando questo sistema di insegnamento. Infatti stanno uscendo un sacco di giocatori, a parte il Berrettini, il Sinnere. Ci sono tantissimi giocatori tra il 100 e il 300 in grossa scesa che hanno meno visibilità, ma siamo diventati una nazione molto forte. E questo positivo impatto anche sul tennis di base lo vede anche nella nostra provincia? Sì, beh, la nostra provincia è una delle province più importanti, diciamo. Noi abbiamo 26 circoli, più 9 di padel, perché questo è un discorso diverso, ma è lo sport emergente simile al tennis che sta venendo avanti, no? E ci sono e organizziamo un sacco di tornei giovanili dove penso che in proporzione siamo la provincia principale, in proporzione alle dimensioni dell'Emilia Romagna, come tornei giovanili. C'è un grosso movimento, abbiamo Albinea che gioca in Serie A2, il Circo Tennis Reggio che gioca in B, quindi abbiamo anche squadre di un certo livello e quindi anche il movimento funziona molto bene, anzi si nota una carenza di maestri di tennis, per esempio qua in provincia mancano dai due ai tre maestri. E come si diventa maestri di tennis, ci sono anche, diciamo, dei patentini oppure rimane ancora sostanzialmente volontario e non troppo normato? No, no, i maestri di tennis hanno una normativa ben precisa della federazione, dove si devono fare dei corsi, si chiama primo grado, secondo grado, poi maestro nazionale e un livello più alto tecnico nazionale. Logicamente all'ammissione sono privilegiati quelli che hanno raggiunto una certa classifica come giocatori. Come giocatori, certo. Ecco, poi per esempio che ha la laurea nell'ammissione, che ha la laurea sotto in scienze motori, che diciamo è un male, perché purtroppo ormai, come tutti gli sport, anche il tennis è molto fisico, quindi la professione fisica ha un'importanza molto più alta rispetto agli anni 70, dove prevedeva il talento, ecco, eravamo giocatori anche non in forma fisica come sono adesso. Il panatta della situazione era un grande talento, ma magari non aveva quell'allenamento fisico che ha il Sinner adesso. Quindi è cambiato naturalmente. È cambiato il mondo, è molto più veloce, meno tecnico magari, ma molto più di... Quindi servirebbero anche più maestri di tennis, dice lei. Sì, ultimamente, perché c'è una grossa richiesta di lezioni, adulti, bambini, c'è una grossa richiesta nel nostro territorio, ma come penso in tutta Italia, perché come dicevo prima l'aumento dei tesserati, che, se ricordo bene, è quasi raddoppiato in 20 anni, tesserati del tennis. E a Reggio quanti tesserati ci sono? Ah, ma a Reggio secondo me ce ne sono 6-7 mila, ci sono a Reggio, c'è un sacco di tesserati anche a Reggio. Tanti tesserati. Tornando alla Coppa Davis, quali sono le squadre e più dobbiamo temere? Beh, secondo me la Croazia, poi abbiamo avuto la fortuna che il loro numero uno cilice, stanco, e quindi non gioca, e questo ci dovrebbe favorire, però hanno Cioric, che è un giocatore che è tornato ad alti livelli dopo un grosso infortunio, che ha vinto a Parma due mesi fa un torneo, e poi il doppio molto forte, quindi io conto che possano vincere i singoli, sarò la presente e spero che domani vado a vedere le partite. Senta, le volevo anche chiedere, accennato a questo tema poco fa, volevo riprenderlo, com'è cambiato poi il tennis negli ultimi anni? Beh, il tennis è cambiato moltissimo, a parte, allora, il principale cambiamento rispetto a quando giocavo io, come dire, la racchetta, perché l'attrezzo che prima era solo in legno, negli anni 70, quando giocava a Borg, a McEnroe, si è passate queste racchette in fibra che permettono con un peso più basso, diciamo, di avere la stessa potenza che le altre racchette, e quindi se uno sta in campo tre ore con 340 grammi o 300, sembrano pochi, ma in tre ore cambiala, e quindi questo permette di giocare in modo molto più veloce, e purtroppo però ha anche creato che la battuta ha un'importanza esagerata, e quindi gli scambi si sono accorciati. Perché la battuta è importante? Perché è chiaro che se io batto i 210 all'ora, di là fan fatica a rispondermi, e quindi a questo punto lo scambio si è naturalmente accorciato, quindi per lo spettatore magari è forse più bello vedere il tennis femminile, perché gli scambi sono più prolungati, considerato che hanno meno potenza, perché il bello è vedere l'ora sono gli scambi molto più lunghi e molto più tecniche, adesso con questa potenza a lei si fa fatica a giocare al volo, andare a rete, perché abbiamo il fatto che tirando così forte non ho il tempo di andare a rete. È impossibile, certo. Senta, ne volevo anche chiedere questo, abbiamo detto appunto della tecnologia, ma anche la preparazione, diceva lei, è molto fisica, ma invece la testa quanto conta adesso o quanto contava una volta? Beh, adesso la testa diciamo è preponderante, infatti quasi tutti i giocatori hanno il mental coach, per esempio anche Berrettini, tutti i giocatori hanno un mental coach che li prepara alla partita, perché se in allenamento vede i giocatori non c'è una grossa differenza diciamo dal 100 al 10, però in partita cambia, mentre quello che dice al mondo gioca come in allenamento, l'altro ha un calo dato dalla mente, non dai colpi o dalla difficoltà di giocare, perché è difficile essere lì concentrati, giocare il punto decisivo al massimo, e quindi testa e logicamente anche la preparazione, perché se ho una preparazione scarsa a un certo punto la carenza fisica mi annebbia la vista. Però l'impressione si ha guardando appunto anche lo sforzo, e fanno, lei ricordava quanto durano le partite di tennis, e poi chi ha avuto anche modo magari di leggere per esempio la biografia di Agassi, è secondo me un bellissimo libro, un bellissimo racconto, viene proprio raccontato la fatica estenuante verrebbe da dire, è così ed è così in particolare in questo sport, rispetto magari ad altri in cui lo sforzo e anche le carriere sono anche lunghe quelle dei tennis, è lunga, si è allungata moltissimo, questo dato dalla preparazione fisica, dal contorno diciamo medico e fisioterapista, quindi che mantengono il fisico molto più avanti. Però è veramente così, è una fatica immane. È molto, è faticoso perché intanto è uno sport individuale, cioè io dico sempre uno sport di squadra, io ho giocato uno sport di squadra, è diversa, io posso anche non essere in forma in forma, ma giocano bene i miei compagni, abbiamo vinto la partita, abbiamo fatto bella figura, quando gioco in una partita di tennis, se io non sono in forma, perché io dico se io calo un 10%, anche per il mio 100 al mondo rischio di perdere dal 100% se sono il numero uno, se gioco al 90% 85%, è sempre il massimo e quindi sono allenamenti estenuanti, parliamo di 5-6 ore al giorno, tutti i giorni in campo, cioè si allenano il doppio per dire di un calciatore, un tennista. Le volevo chiedere anche questo, qual è il suo giocatore preferito a livello internazionale e se ci sono dei diversi stili anche di tennis. Sì, beh, è chiaro, i principali stili ci sono i giocatori che sono dei grossi attaccanti, adesso ce ne sono meno, e quelli che sono invece diciamo dei giocatori più, chiamati regolaristi, ecco il tipo il Nadale al regolarista, Federer è un giocatore più bello da vedere, più accattivante, infatti Federer rappresenta proprio, il tennis secondo me è sempre rappresentato perché è giocatore perfetto, persona corretta in campo, bellissimo stile, poi c'è il Djokovic che è un regolarista pazzesco, che le palle vanno sempre di high, quindi è regolarista nel senso che è proprio sbaglia poco, concede poco ha un rendimento, anche uniforme un rendimento uniforme, concede magari poco allo spettacolo, però è molto efficace, c'è l'efficienza del gioco. Tornando al tennis a Reggio, lei appunto è delegato provinciale, intanto le voglio chiedere anche scherzosamente se è più bravo lei a giocare a tennis o il nostro avvocato Tarquini eppure un tennista. No, proprio l'avvocato Tarquini era più forte di me, anche perché era un po' più giovane e quindi mi batteva sempre, però... Insomma, per essere delegato non bisogna essere il più bravo, il tennista della provincia. No, poi io sono autodidatta perché io sono un pallavolista e quindi ho cominciato a giocare a tennis a 25-26 anni con gli amici al bar, ma abbiamo cominciato fra di noi senza maestro e quindi ho delle lacune pazzesche. È un autodidatta. Un autodidatta, quindi il mio stile è da non vedere. Infatti guardi, una volta mi sono visto al cinema a San Martino, perché uno ci ha ripreso per provare la telecamera, mi sono vergognato perché abituato a vedere in tv i campioni, non pensavo di giocare così male. Diciamo, lei rappresenta il suo ruolo, appunto quello di parlare e rappresentare il tennis. Obiettivi di questa stagione, della vostra attività di federazione in questi mesi? Ma guardi, gli obiettivi sono di riuscire a salvare la campagna invernale perché con l'aumento del gas e della luce purtroppo molti circoli non sanno se coprono i campi o comunque si giocherà probabilmente al freddo perché sono delle bollette pazzesche. Le avete già incominciate a vedere? Sì, ma l'abbiamo visto vedere anche dai tornei che la federazione ha intituto di organizzare, ma parliamo di tornei amatoriali, non di tornei Coppa Davis, ma di tornei a livello regionale che erano molto importanti, le coppe invernali, non si sa se verranno fatte o comunque in modo ridotto perché tutti si iscrivono ma dicono vogliamo giocare in trasferta, così pagare il gas e l'altro tipo. Quindi insomma questo tema dell'energia pesa. L'energia pesa molto, cioè le prospettive erano molto buone per fare tanti tornei, c'è una grossa richiesta. E comunque il riscaldamento e se si fa attività fisica serve? Serve, ma poi soprattutto chi copre i palloni con i palloni presso statici, che li mantiene, diciamo vengono gonfiati dall'energia, quindi lì l'energia anche al freddo il generatore deve mantenere perché altrimenti il pallone scende. Quindi è obbligo. Cioè ma le tensostrutture? La struttura, esatto. Quindi questo penso purtroppo è un grosso problema, anche per i bambini, perché sai i bambini si possono ammalare per giocare al freddo, non è così… perché poi c'è il problema che io dico sempre giochi a calcio, giochi fuori, ma in certi posi è meglio fuori che dentro con l'umidità, chiuso senza riscaldamento. Quindi questo è un po' il grande tema, cioè vuoi essere sportivo. La preoccupazione principale, l'umidità sportiva, invece penso ci sono… l'Emilia è al centro dell'attenzione, infatti a parte la Davis ci sarà a fine mese un torneo femminile e uno maschile a Parma di alto livello. È perché non abbiamo in modo specifico, ma naturalmente lo davamo per scontato, il fatto che il movimento tennistico riguarda anche il movimento femminile e negli anni si è molto sviluppato. Allora, fino a 6-7 anni fa le femmine erano nettamente sui maschi a livello… Noi avevamo la Pennetta, la Vinci, la Schiavone, che hanno vinto tornei internazionali, i grandi slam, mentre i maschi erano molto più sotto. Adesso purtroppo si è invertito, abbiamo dei grandi giocatori in settore maschile e siamo molto in difficoltà sul settore femminile. Però bisogna recuperare. Per recuperare, purtroppo però anche a livello giovanile ci sono poche… Ma secondo lei perché? Ci può essere un motivo? È un motivo… Si è più attratti da altri sport? Ci sono altri sport, per le femmine giochini in genere giocano tutti a pallavole, è uno sport che per le femmine ha avuto uno sviluppo pazzesco, che è un po' molto adatto. E poi forse io penso che le femmine affrontano il tennis in una maniera diversa, più per battere l'avversaria come persona che in se stessa. E poi c'è il problema che non hanno probabilmente l'agonismo che ha il maschio e quindi quando arrivano a un certo punto o diventano veramente giocateci brave o non si adattano a giocare come abbiamo fatto noi a livello più locale che ci divertivamo a fare i tornei locali. Insomma nel tennis è molto importante l'agonismo. L'agonismo e quindi dopo diventano brave o in genere smettono ecco. Beh speriamo che in questa nuova stagione i tennisti ci siano molte ragazze. Sì perché noi abbiamo dei numeri molto bassi, anche noi giovanili si vede già la differenza, magari ci sono 10 iscritti nel femminile e 40 nei maschi, under 12, parlo dei ragazzini ecco. Quindi bisogna fare qualcosa per avere più tennisti. Sì qualcosa si cerca di incentivare, però insomma non è così semplice. Grazie a Fabio Guerrieri, delegato provinciale della FIT per essere stato con noi.